Sono scattate nella notte scorsa le manette per un 27 anni albanese sorpreso in un'abitazione di Bagnoli in possesso di un chilo di cocaina ed 11 chili di marijuana. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Montella unitamente a quelli della stazione di Bagnoli Irpino e coadiuvati dai colleghi del nucleo investigativo del reparto operativo di Avellino hanno subito capito che l'uomo non era uno straniero qualsiasi ma non immaginavano che fosse un pezzo grosso dello spaccio. I militari dopo una serie di servizi di osservazione e pedinamento hanno individuato l'abitazione di Bagnoli Irpino come possibile obiettivo di interesse al contrasto della piaga rappresentata dal traffico di stupefacenti. Nella nottata di ieri i carabinieri valutati gli indizi hanno deciso di intervenire e di eseguire una perquisizione presso quell'abitazione operazione che si è conclusa positivamente. Infatti all'interno di una valigia che era sul letto i carabinieri hanno rinvenuto 11 chili di marijuana suddivisa in 14 buste nonché materiale vario per il confezionamento, bilancini di precisione, bustine in cellophane, nastro adesivo e persino una imbustatrice a calore per il confezionamento sotto vuoto dello stupefacente in modo da ridurre il rischio in caso di perquisizione con cani antidroga, un vero e proprio kit del trafficante in pratica. I militari hanno proseguito nelle attività di ricerca e nel vano bagno, precisamente nel serbatoio dello sciacquone, hanno rinvenuto circa un chilo di cocaina pura confezionata in pacchetti sotto vuoto. Il 27enne, le cui responsabilità sono state definitivamente sancite dalle analisi tossicologiche eseguite dai carabinieri del laboratorio, analisi sostanze stupefacenti di Salerno, è stato così tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale di Bellin Sirpino a disposizione della procura della Repubblica di Avellino diretta da Rosario Cantelmo. Gli accertamenti tecnici e qualitativi hanno permesso di quantificare il numero di dosi medie ricavabili dalla sostanza, inoltre 3.500 di cocaina e circa 50.000 di marijuana, destinate verosimilmente ad incrementare il mercato della droga in Avellino e provincia per un valore commerciale a del taglio sulla piazza avellinese calcolato tra i 700.000 e i 900.000 euro. Un nuovo duro colpo quindi messo a segno dai carabinieri nell'incessante lotta alla droga e allo spaccio di stupefacenti in provincia di Avellino. Basti pensare che solo qualche giorno fa c'è stato un maxi sequestro anche ad Altavilla e Erpina.